In tutte le scuole sante, elementari, medie inferiori, medie superiori, e vedremo anche l'università, ogni cattedra di lingua italiana deve essere integrata per legge, istituita per legge, una cattedra di lingua sarda occupata o da un docente bilingue, oppure, come in Vallevosta, integrato da un docente amate di lingua sarda. Punto e basta. Un dialetto non si può insegnare, o si insegna la lingua o non si insegna il sardo assolutamente. Per essere insegnato il sardo deve diventare una lingua, deve essere unificato, standardizzato. Perché lui avrebbe voluto, e ha dato l'esempio, arrivare a un locutorese condiviso in confini larghi, non nei confini di Arasolei. Si tratta io di dare una foima grafica a su saldo, cioè, cali scrittura in preampro su saldo. Come deve essere l'ortografia della lingua sardo? Voi capite che questo non è un problema politico, è un problema puramente scolastico. Io non posso imporre l'uso se non c'ho la matita blu. Devo insegnare a tutti i sardi, su modi chiesti usati. Sa maniera, infatti non lo comprendiamo pari vari, non perché ci siano lingue diverse, ma perché usiamo la traspizione, il fonema, la traspizione fonetica. non la traspizione, non la grafica, la grafica. E ti dovesse insegnare a questo, solo risponde. Io, anche in italiano, se devo scrivere la parola stasera, guardo il vocabolario, voglio dire se si scrive con un S o con due S, perché pronunciandola, e ce ne metto due. E a base del vocabolario, guardo il vocabolario. Grazie.